Buongiorno, sono Adela Teresa Cozzoli, vi parlo dall'Università degli Studi di Roma 3, dalla sede di Via Ostianze, dove nell'Aula 18 si sta svolgendo un convegno sull'insegnamento del Graco Antico, proposte e nuove prospettive. Ma perché parlare ancora oggi dell'insegnamento del Graco Antico a scuola e all'università? Beh, potrei semplicemente rispondere con quello che fa dire la Iurzen era l'imperatore di Rano nel suo romanzo, ovvero che la lingua greca è talmente espressiva e potente che i greci hanno già detto tutto nella loro lingua. Adriano sostiene di aver governato l'impero latino, ma di aver pensato e vissuto in greco. In realtà non ce ne accorgiamo, ma noi parliamo, pensiamo, viviamo in greco. Alcune parole come la politica, ecologia, xenofobia, patriarcato, sono parole greche che possono esprimere dei concetti così articolati e profondi. Quindi è necessario ripensare all'insegnamento del greco anche nella nostra società. E questo è il primo convegno nazionale organizzato dalla Consulta Universitaria del Greco in collaborazione con la Fondazione Lincea per la Scuola e col patrocino dell'Ambasciata di Grecia, che l'Università di Roma 3 è lieta di accogliere nelle sue sedi. Tanto più che è in atto una riforma molto importante per il reclutamento del personale nelle scuole e dei docenti, che vede impegnati da un lato appunto come tutor i docenti delle scuole, dall'altro l'Università. Quindi uno scambio sulle esperienze del presente per ripensare appunto il futuro è quanto mai importante. Che cosa vi devo dire? Viva il greco!